Amici e amiche di RBI, torniamo in diretta al qui e ora dalla palazzina di caccia di Stupinigi, appena iniziata Floreal 2023, appuntamento che mette al centro il dialogo tra essere umano e natura, verde, fiori, le piante. Prima di introdurre l'ospite che è già qui con noi nella nostra postazione di RBI, qui nell'area food della palazzina di caccia di Stupinigi, vi dico subito questo, il limone in realtà non esiste. Quello che voi pensate essere una pianta esistente da secoli e secoli, in realtà state mangiando qualcosa che non esiste, sembra un concetto molto simile a quello di Matrix, ma in realtà non lo è. E per capire tutto questo, per andare a scoprire questi e altri progetti, soprattutto quello che riguarda il Festival del Verde, i Talk di Floreal 2023, ho con me l'autore di I racconti delle piante, viaggio curioso nel mondo vegetale italiano, Fabio Marzano. Fabio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Sono partito da questa frase ad effetto, un po' Matrix, quello insomma, il cucchiaio non esiste, in questo caso il limone non esiste. Il limone in effetti in natura non esiste, è un ibrido, perché poi moltissimi dei nostri prodotti alimentari, agricoli, del Made in Italy, sono in realtà degli ibridi creati abbastanza di recente. Basta pensare che, per esempio, l'arancia fino a un secolo e mezzo fa era solo amara, non esisteva ed era usata più per, diciamo, scopi medicinali piuttosto che alimentari. L'arancia dolce, quella che mangiamo oggi, è in realtà un ibrido creato in Portogallo a metà ottocento. Ecco, questa è solo una delle storie che racconti e di cui, insomma, sei portatore, Fabio, tu scrivi per Repubblica, il libro di cui ho parlato poco fa, è pubblicato da IDT, Racconti delle piante, il viaggio curioso nel mondo vegetale italiano, ripeto questo titolo. Qui a Florea, il 2023, so che, insomma, ci saranno diversi talk, incontri, quindi ragionare intorno al rapporto con il mondo vegetale al giorno d'oggi, nel contemporaneo, e soprattutto creare, se vogliamo, anche un dibattito, insomma, un momento di incontro e di domande e risposte rispetto ai temi che riguardano il mondo vegetale. Poi, a fine del nostro intervento, parleremo del Festival del Verde, di cui, insomma, avrei modo di raccontarci, si intererà poi a maggio, però, insomma, andrei innanzitutto a parlare di questo. Floreal come piazza, come punto di ritrovo per confrontarsi e raccontare e partecipare ai talk intorno a questo tema. Assolutamente, quest'anno, infatti, abbiamo proprio deciso di affrontare un po' il tema di vivere con le piante, no? Un tema molto generale, che, come dire, è emerso negli ultimi anni come un'urgenza. In particolare, oggi, per esempio, che è venerdì, parliamo di decarbonizzazione della città. Ne parliamo con, quindi, come dire, come le città possono diventare sostenibili, come le città possono ridurre la quantità di inquinanti. Beh, sicuramente le piante hanno un ruolo, possono avere un ruolo, non esclusivo, perché, ovviamente, non si può ritenere che le piante da sole, anche, come dire, coltivando delle foreste, possano poi assorbire tutto quello che è l'impatto ambientale provocato da una città. Però, comunque, oggi avremo degli architetti, dei passeggisti, che ci racconteranno quali sono, più o meno, le strategie in Italia per decarbonizzare le città, no? Partendo dalle piante. E questo si può fare in tantissimi modi. Abbiamo parlato prima con Giustino Ballato, il presidente di Orticola, creatore di Flore, di questo progetto, delle nostre città. Noi arriviamo da città medievali, città del Rinascimento, l'umanesimo, quindi mettere al centro l'essere umano rispetto alla foresta, al foresto, quello che c'era fuori. Quindi, nei nostri centri urbani, nei centri storici, è difficile trovare dei parchi, delle vie in cui, insomma, trovare il rapporto diretto con la natura. È stato creato nel corso del tempo, più recentemente, ovviamente. Pensa, ad esempio, a Torino, a Giardini Reali, senza dubbio. Ma era tutto molto circoscritto. Invece, adesso, c'è la voglia, secondo te, Fabio, e insomma, ti chiedo qual è la visione, parliamo di visione e visione futura. C'è la volontà, secondo te, o comunque, l'intenzione di aumentare questo dialogo tra spazi urbani, urbanistica e verde? Beh, dunque, sicuramente sì, ma penso che la richiesta parta addirittura dal basso, nel senso che siano, l'abbiamo visto ultimamente in tantissime città italiane, le persone si mobilitano per le piante, si mobilitano, si creano comitati, quindi, come dire, questa esigenza è sicuramente un'esigenza che arriva dal basso. Come visione, sicuramente, bisogna aumentare la superficie verde. A livello scientifico si ritiene che, perché una città, come dire, diciamo di medie dimensioni, possa avere, come dire, un verde funzionale, cioè in grado di dare dei servizi ecosistemici, dovrebbe avere una copertura arborea del 27%. La maggior parte delle città ne ha, come dire, sul 15-16%. Torino, per esempio, è una città che ne ha molto, perché ne ha oltre il 30%, grazie anche alla collina, soprattutto, che è rimasto un po', nonostante, come dire, sia stata in parte lottizzata e cementificata, però rimangono dei polmoni verdi molto importanti. Ecco, quindi, il ruolo di questi polmoni verdi, sappiamo, ad esempio, insomma, siamo circondati dall'asfalto, temperature dell'asfalto in città, insomma, che vanno a compromettere, insomma, spesso anche la salute, il clima nelle città. Sappiamo come il riscaldamento in città, rispetto, ovviamente, banalmente, rispetto a un paese in collina o appena fuori, la temperatura è diversa, ma anche perché deriva anche da questo aspetto, immagino. Assolutamente sì, le città sono dei forni, sostanzialmente, l'asfalto, come dire, il cemento anche amplifica l'aumento della temperatura, quindi da questo punto di vista sicuramente le alberate, però parliamo di alberate storiche, cioè parliamo di un albero per fornire quell'ombra necessaria, come dire, a raffreddare un po' la temperatura in città, deve avere delle dimensioni della chioma notevoli, quindi per esempio un platano, che al Torino sono tantissimi, deve essere alto almeno 20 metri, più o meno, per offrire, però è calcolato che, come dire, in quell'area sotto l'albero, la temperatura rispetto alla parte del sole è ridotta fino a 3-4 gradi. I talk di Floreal, tutto il programma è sul sito, andate su Orticola, Piemonte, i motori di ricerca, vi basta digitale Floreal, Stupinigi 2023, trovate tutto il programma, venite qui, venite direttamente a Stupinigi oppure seguiteli attraverso i social, ma soprattutto partecipate a questi incontri per scoprire qualcosa di più rispetto a questi temi legati al vivere con le piante. In chiusura, Fabio, abbiamo iniziato parlando delle storie bizzarre delle piante che si trovano nel tuo libro, I racconti delle piante, ma vorrei citare il Festival del Verde, in chiusura, appuntamento che si terrà a maggio, che in qualche modo è una prosecuzione o comunque uno spin-off di Floreal, cioè propone temi che partono da qui e che verranno sviluppati. Che cos'è il Festival del Verde? È davvero un'iniziativa, in questo caso, sul verde pubblico. Quindi noi, tu prima dicevi, in città non abbiamo dei pezzi di natura. In realtà è vero, è verissimo, perché non ci sono degli anfratti, non ci sono dei frammenti che hanno resistito. Però in realtà c'è una grandissima biodiversità, una biodiversità coltivata. Il nostro obiettivo con l'Init Festival è far scoprire, come dire, sia le storie che sono dietro i nostri alberi, i nostri parchi, sia anche aprire, per esempio, al pubblico, sempre gratuitamente, i giardini privati. Cioè, i più bei giardini privati di Torino, grazie ai proprietari che si sono resi disponibili. A disposizione nell'ambito del Festival del Verde. Si stanno già le date? Sarà un festival diffuso? Dunque, le date non si stanno. Sarà sicuramente dopo il Salone del Libro, che quest'anno è dal 9 al 13 di maggio. Quindi saranno tendenzialmente nell'ultima settimana di maggio. Abbiamo avuto il piacere di presentare i talk di Floreal 2023, il Festival del Verde, i racconti delle piante, autore Fabio Marzano, che le ringrazia ancora. Fabio, siamo ancora in tempo, quindi siamo in tempo per cambiare la nostra abitudine, il nostro rapporto col Verde in città. Assolutamente, sì. Piantiamo e compriamo più piante possibili. Contiviamole. E ci rivolgiamo ovviamente anche agli amministratori e alle amministratrici. Si può fare. Terminiamo con un'altra citazione. Fabio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.